Era della scuola elementare di mattinata, adesso affiliata alla FIPTA, la Federazione delle Tradizioni Popolari. Noi rappresentiamo una scenetta di vita paesana, c'è la raccolta delle orive. La raccolta delle orive è una pratica assai diffusa nei nostri lavori agricoli, durante la quale si cantavano e si raccontavano vicende realmente vissute. Noi abbiamo cercato di trarantare un po' quella che è la nostra tradizione, con canti e balli che si riferiscono ad un'epoca passata, cioè quando mattinata era un paese prevalentemente agricolo. Adesso mattinata è un paese turistico. Il trapasso che mattinata ha subito da paese prevalentemente agricolo a paese turistico rende sempre più vivo e interessante l'aspetto culturale, perché conserva inatterate alcune caratteristiche fondamentali, come per esempio la raccolta delle orive. noi iniziamo il nostro spettacolo con una sigla caratteristica, cammina a feste, è un canto d'amore, un canto di felicità, è un saluto che questi bambini portano ovunque se ci viscono. Noi abbiamo partecipato anche quest'anno al concorso nazionale Arte per la Pace e questi bambini hanno vinto il trofeo nazionale. Abbiamo partecipato a Uno Mattino, a una trasmissione speciale che ha fatto la RAI, quindi siamo un gruppo già molto affermato. Adesso in questo momento i bambini ci stanno predisponendo per fare la sigla, cammina a feste, via con la sigla! Anche a tutti i bambini ci stanno predisponendo per fare la sigla! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.